Mentre sfogliavo i giochi recenti usciti su Game Pass mi sono trovato davanti a questo gioco alquanto intrigante. Slayer's X, poi vabbè c'è il nome che è lungo una quaresima e mi ha ricordato un po' i vecchi giochi di Doom, bene o male, quelli proprio degli anni 90, anche i Wolfenstein vecchi. E ho detto, perché non provarlo? Perché non portarlo sul canale? Perché è all'area che sia un gioco pazzo, onestamente. 20 anni dopo. Sembra una cosa veramente trash, ma quel trash che piace, che è bello proprio. Ed è anche in italiano sembrerebbe, vabbè inizia partita. Non un vero giocatore, giocatore normale, solo un fenomeno. Insano. Insano. Normale, normale, normale. Insano. 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 indiz Ma che è Dragon Ball? What, Shannon? I am supposed to be up for my job at Sloppo's tonight! Get your bet in here now! Fine, I will come into work now, bye! I should quit! They don't pay me enough for this crap! Ouch! Have fun flipping burgers, Stephanie! What?! Breaking news! The Psycho Syndicate are blowing up bombs around famous CEO Zane Lofton's apartment. The cops are evacuating everyone in the city of Boise. Stay safe, folks. I'll go check it out. Stay here. You're not ready. You are too weak. My mom lives in that apartment! I don't care if I'm ready or not! I must fight! Bellissimo! Aiuto! Quanto è bello, ragazzi! Cioè, solo questa intro merita di giocarlo. Offensiva a Psycho. Ok. Entrando. Entrando. Non si torna indietro. What the fuck? Si, mi ricorda tantissimo i vecchi Wolfenstein, Doom e così via. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Misura di sicurezza in caso di emergenza. Mazza oh! Aia! Cosa devo fare? Ma che c***o! Ma che c***o! Ma che c***o! Ma che c***o! E' un mistero. E' tipo un museo sta roba qui. I ratti sono amici. Ok. Vabbè, senti. Sto dicendo. Qua succede qualcosa? L'inizio. Tutto in inglese purtroppo questo. Perché avete ucciso mia mamma? Dieci minuti dopo. Ok. Ma che... Ma perché? Che gioco particolare. Cioè già veramente... Già da queste prime battute è veramente particolare il gioco. Ma l'avevo inquadrato infatti questa sua particolarità. L'avevo inquadrata. Ecco perché volevo portarlo qua sul canale. Mi ispirava troppo. Mi sono schiantato malissimo. Ciao caro. Zane. Zane. The psychos. They found the steel sewer. Our secret base. They know about the hack blood. Ma che faccia poi Zane? Sto capirato là. Sto capirato là. Sto capirato là. I am. You're. There. Mikey nooooo. Io sono tuo padre. The S Blade has a hack blood charge. Sì, vabbè, oh... Oh, che bello! Sono quei classici giochi fatti male ma apposta! Ho trovato un segreto! Formaggio? Il formaggio! Ah, sì! Si torna qua? E dove si trova il formaggio? Scusatemi eh! Con tutto il bene! Che gioco ragazzi! E vieni a sparando! Vieni a casa! Dove si trova sto formaggio? E vieni a sparando! E vieni a sparando! Ok... Spara a vetro! Dai, spacca, spacca... No, spara proprio il vetro spara in generale! Grandi scariche di Dio Frank! Salve il... Si tu sei così fai! Io ne vedo il tutto il mondo! Si tu sono così ucino, io non posso darci qualcosa!" Sì ma è pantomatico formaggio Dove si trova? Vuole capire bene se Se si può trovare oppure no A questo punto Non posso neanche ucciderlo Ma dov'è il formaggio? Sono i miei amici Vabbè Non pensiamo ora al formaggio A sto punto Direi che non ha senso Pensarlo Con l si può correre Un po' scomodo Perché devi tenere premuto Non è comodissima questa cosa In effetti Andiamo avanti Cacchio io amo questi giochi così però Per staccare il cervello E divertirsi e basta Vabbè sempre Dream Dream Ok ok Ma che ca... Ma che ca... Vabbè Babbini Qua si va del formaggio No è il ristorante È un dinner Mangiare da sloppo Di arrea assicurata Effetto Garentito Ma perché Ma perché Ma perché Deve stare in bagno Tuo padre è stupido Ma qui sarà poi del formaggio Ma perché Siamo un supermodel? Ok, sì! Ma è una cosa più gà! Facciamo che le pistole non è che possiano il top del top, eh? Oh, il formaggio! Gli posso portare il formaggio, attenzione! Ah, ma... E' tutto c'è anche da lontano! Non lo sapevo questa cosa io! Massimissima sta arma! Ok! Io non so neanche dove sono! Però di qua non si va... Eh, ho sbagliato strada, ho sbagliato! Ho sbagliato strada! Sì, devo portare il formaggio, eh! Allora... No, vai a capire! Poi è in mezzo, comunque, questo coso di formaggio perché... Non vedo niente, no! Poi è tutto in mezzo! Ok, ecco qua il vostro formaggio! E come mi ripagate? E come mi ripagate? E qual è il vostro ringraziamento? E qual è il vostro ringraziamento, scusate? Non lo so! Onestamente non ne ho idea! Comunque... Cioè... È... Questo gioco è bello perché sono quei classici giochi fatti male quasi... Quasi apposta, no? Perché comunque alla fin dei conti... Sono fatto per divertire e basta! Poi avanti a me l'arma? Ah, con L1? Ok! Perfetto! Siamo scappati e stiamo cercando di fare il bravo, per favore non sparare! Ah, l'ho sparato, vabbè! Scusatemi, non mi ero accorto! Eh no! Ho sbagliato! E mo? No, vabbè, ma che cavolo! Ma devo fare a piedi? O santo ce l'ho benedetto però! Non è giusta sta cosa, cioè... Vabbè! Eeeh... Ho sbagliato strada! Ce ne erammo accorti un po' tutti, onestamente! Pran e io! Pran e io! Io non me ne sono accorto! Ma si spara... No, e non passano i colpi, vabbè! Pensavo che passassero i colpi, invece no! Vabbè, a questo punto andiamo avanti per la nostra strada! E vediamo cosa ci aspetta! Poi in realtà non lo so! Se dobbiamo andare di dentro... Peggiore impiegato del mese, Stefani! Peggiore impiegato del mese è fantastico! Aria divertimenti! Oh, porca! Ma che dici? Si è preso un colpo! Mannaggia tutto, mannaggia! Si è preso un mezzo infarto, raga! Case popolari! Dari? Ma vabbè! Ma che dici? Cosa parli? Sono già morti! Ma vabbè! Te l'ho visto! Ah, vedi mo' ho... Ho troppo un segreto! Ok... Si, non si apre nulla! Non trovo punizioni! Non trovo punizioni! Qua c'è il bagno, bellissimo! 98... Un re di seno! Un re di seno! A vuoto! Ciao 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 Scusa Ho rotto le tue cose Ho fatto la cacca La cacca Casa sbagliata Perdonami Ma come I psycho Sono stati qui Ma che Che gioco Raga Cos'è che questo fa? Ammazza Che Vabbè Il cazzo è un po' cagato Leggermente Povera mamma Quindi c'è cerca E poi Ma Boh Se questa era la mia stanza Mi sa di sì La mamma di Dane Fa schifo Ma Ma no Sono favoloso E' fantastico Se lo dice anche da solo Che gioco Veramente particolare Ragazzi Questo Questo è veramente Stra particolare Mi dice Cisi 84% Se chiedi scoperti 40% Eh Potevo far meglio Onestamente Potevo far meglio Però dai Era la prima prova Giusto per capire Com'è un po' il gioco E se merita Ma direi che Merita Perché è parecchio divertente Ragazzi Io per il momento Mi fermerei qua Yes Mi fermerei qua Vi ringrazio molto Se volete altri episodi Mi raccomando Fatemi sapere Sicuramente arriveranno Nel caso Vi ringrazio Alla prossima Ciao Ciao